Si è col cellulare, si 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 è uguale, ma forza, si ma vengono da lontano Non ti preoccupa tanto ne fanno tutti, si si ma io ho bisogno Vedi, vengono da lontano Vedi, vengono da lontano Vedi, vedi, vengono da lontano Io penso, io penso Penso, o no? Ok Ok Grazie a tutti.